Grazie di aver aderito in massa a questa conferenza e speriamo di dare un buon contributo conoscitivo, avete visto che rispetto all'anno scorso abbiamo articolato il pomeriggio in maniera differenziata su vari tavoli, abbiamo avuto fino alle 17 di ieri sera 505 pre-iscritti e poi comunque se qualcuno non è iscritto si può iscrivere direttamente qui, questo è per monitorare più che altro la distribuzione nelle sale, abbiamo sempre ieri sera 30 iscritti allo streaming ma sicuramente come abbiamo verificato l'anno scorso ci sono moltissimi iscritti che lo fanno direttamente la mattina della conferenza, non stiamo monitorando queste iscrizioni, comunque sono elementi significativi come numeri. Allo streaming non c'è una chat quindi chiunque voglia fare dal web commenti o domande ai relatori può farlo usando l'hashtag opengeodata su twitter, c'è la nostra persona in regia Maurizio Ambrosanio che segue twitter per cui io gli chiederò se ci sono domande dal web, se ci sono domande al pubblico di alzate la manina che vi vedo e quindi possiamo interagire anche in questo modo. Ecco il profilo delle persone che hanno aderito con le pre-iscrizioni, c'è anche un confronto con il 2013 quindi abbiamo il 50% presenti di iscritti sono appartenenti a enti pubblici, l'anno scorso con un 14 punti di percentuale in più rispetto all'anno scorso, anche in aumento le aziende private, il 32 rispetto al 29 dell'anno scorso, università ricerca in discesa dal 15 al 10% quest'anno e anche privati professionisti dal 18 al 12. L'ultima riga sono le associazioni ma in realtà nessuno si registra o pochi si registrano come associazioni perché ovviamente fanno parte anche di aziende o enti pubblici quindi danno come priorità nella registrazione l'appartenenza a un ente o un'azienda. Prima di tutto ringrazio tutto lo staff che ci ha permesso di fare questa conferenza, Paolo Silvagni il segretario che ha dato una grande mano all'organizzazione e poi i soci fondatori che sono tutti qui operativi, Michele Aurelio per gli aspetti informatici, per le foto, Angelo di Clemente, Elena Spagnoletti che purtroppo ci seguono dalla reception perché avevo bisogno di un coordinamento in reception, Cristina, Valentina e Gabriella che sono sempre il nostro appoggio, sono tutti volontari come lo siamo tutti in associazione. Ringrazio tutti i soci soprattutto perché grazie a loro riusciamo a fare queste cose e non solo perché c'è un'attività associativa impegnativa in cui si chiede il confronto con i soci su vari temi e quindi questo è un aspetto importante, non solo i soci contribuiscono anche economicamente al sostentamento dell'associazione. Ringrazio i sei partner, le aziende che ci permettono di fare la conferenza che sono Esditalia, la Value Lab, la Sistemi Territoriali di Pisa, la Planetech Italia di Bari, la Synergis e i Geos che è una società che è stata formata dall'Agenzia Spaziale Italiana e da Telespazio. Quindi abbiamo anche due media partner, Dario Flaccovio è editore e MediaGeo che poi io faccio parte anche di MediaGeo per la parte di comunicazione ci ha aiutato tantissimo, MediaGeo ha vari strumenti, il nuovo sito Geo4All di comunicazione, la newsletter Geo4Us che curo direttamente, poi abbiamo tutti gli altri canali, la rivista Geomedia che potete prendere una copia al loro desk e poi altre riviste e altri siti dedicati alle smart city, alle tecnologie per i beni culturali e così via. Vi devo chiedere ovviamente come faccio ogni anno di sostenere l'associazione, l'associazione è composta solo da persone fisiche e quindi non ci sono aziende che possono aderire come aziende o come enti, quindi l'associazione annuale la quota è solo di 10 euro e l'abbiamo voluta bassa perché vogliamo che ci siano soci che non si impegnino economicamente in modo importante sull'associazione ma che contribuiscano invece anche con le loro iniziative e con i loro discorsi e potete sottoscriverla direttamente qua, c'è un desk per fare questo e queste che sono elencate qui sono tutte le attività che l'associazione svolge. Non sto a raccontarvi in dettaglio, ne prendo solo tre, noi facciamo un rapporto ogni 3-4 mesi sullo stato degli Open Geodata in Italia, viene pubblicato e scaricabile dal nostro sito gratuitamente che fa un'analisi di tutti gli enti o quasi tutti perché poi qualcuno ci può sempre sfuggire che pubblicano dati geografici open, ci sono tutti gli hyperlink, ci sono anche alcuni commenti, c'è anche tutta la parte legislativa, tutti gli hyperlink necessari per comprendere il mondo dell'open geodata come disponibilità di dati. Poi abbiamo un ebook annuale, quello dell'anno scorso che è stato realizzato l'anno scorso, introduzione all'open data, è stato scaricato solo dal nostro sito ci sono stati 4.000 download, però avendo una licenza open creative common buy è anche presente su altri siti, quindi non sappiamo esattamente quante volte sia stato scaricato effettivamente. Noi facciamo anche sollecite comunicazioni agli enti, l'ultimo che abbiamo fatto è che è stato concordato con tutti i soci e l'elenco degli stati, dei layer prioritariamente, dei data set che devono essere resi disponibili ed è stato comunicato ufficialmente sia all'Agenzia per l'Italia Digitale sia alla funzione pubblica che cura la carta open data del G8. Quindi abbiamo comunicato a entrambi quali sono i dati, abbiamo fatto il lavoro della base, la richiesta della base. Poi ci sono tante altre cose che facciamo ve le lascio leggere come le news, abbiamo un gruppo facebook dedicato, abbiamo tante altre operazioni che facciamo come associazione. Altre informazioni per oggi tecniche, il segnale di telefonia qui nella sala è uguale a zero, ve ne sarete accorti. Quindi chi soffre di crisi di astinenza da telefonini può salire al livello di sopra, al primo livello, al livello stradale, lì il segnale c'è. C'è anche un cortile dietro questa porta dove qualcosa si riesce a prendere. Però abbiamo il wifi e l'accesso è attraverso queste credenziali, Frentani 2012, scritto come lo vedete nella slide. L'anno scorso abbiamo offerto noi il buffet ma avevamo prenotato solo l'auditorium. Quest'anno abbiamo scelto di investire i soldi del buffet nelle sale nel prenotare l'intero centro congressi perché abbiamo quattro sessioni in parallelo nel pomeriggio. Quindi per il pranzo abbiamo concordato con il centro congressi un voucher di 7 euro che può essere acquistato in reception e qui accanto al bar c'è una grande sala con tavoli e sedie e c'è una tavola calda per cui è possibile con 7 euro prendere un primo o un secondo in contorno all'acqua. Per gli attestati di partecipazione alla conferenza e gli attestati di partecipazione al corso saranno disponibili dopo le 17 al desk che è a livello stradale vicino all'ingresso. Vi prego di andare in reception per chiedere esplicitamente l'attestato così lo preparano. Infine dietro questo flare dove c'è la location con le indicazioni delle sale che comunque seguirete salendo, questo è l'auditorium, le altre sale per il pomeriggio sono al piano di sopra nell'auditorium il pomeriggio si tiene il corso di formazione mentre nelle altre sale le sessioni che poi vi andrò a raccontare. Dietro c'è un sondaggio, una sola domanda vi prego, anzi quasi vi obbligo rispondete a questa domanda perché è un test che stiamo facendo siccome ci sono centinaia di iscritti a questa conferenza non potevamo mancare di sfruttare questa occasione per testare questo sondaggio è molto semplice, una domanda soltanto e questo cartoncino con la vostra risposta non è nominale quindi lo potete lasciare sempre al desk che è all'uscita dal centro congressi. E adesso veniamo all'argomento della nostra conferenza perché Open Geodata? Questa è la stessa slide è l'unica slide che riutilizzo quest'anno della presentazione dell'anno scorso perché ci possono essere in platea persone che non sono esperte in dati geografici sicuramente il dato geografico è il più richiesto in assoluto se andate sui siti di Open Data che pubblicano dati geografici e non e che citano le percentuali di download scoprirete che effettivamente i dati geografici dove per geografici intendiamo anche le liste di uffici, servizi, monumenti eccetera che hanno delle coordinate XY o anche un indirizzo postale perché attraverso funzioni di geocoding l'indirizzo postale può essere convertito in una coppia di coordinate quindi tutto questo è il mondo dei dati geografici compreso quelli complessi che noi siamo più abituati ad utilizzare e sono sicuramente i più richiesti in assoluto anche perché parliamo di dati geografici anche perché le caratteristiche e i formati sono abbastanza particolari rispetto alle classiche tabelle che siamo abituati a vedere per i dati alfanumerici e c'è anche un altro problema che c'è molta resistenza a renderli disponibili in Open e quindi il nostro lavoro è fondamentale e inoltre sui dati geografici sull'informazione geografica da anni esistono una serie di standard ormai consolidati standard di interoperabilità quindi l'Open Geospatial Consortium ha studiato degli standard che poi sono applicati da tutti i software commerciali e open source che quindi sono ormai degli standard per noi consolidati di interoperabilità per la parte metadati lo stesso abbiamo degli standard abbiamo il repertorio nazionale dei dati territoriali che è previsto da legge e che è funzionante e operativo in Italia quindi che usa delle strutture di metadati standard che rispettano anche gli standard internazionali e poi il dato geografico permette le analisi spaziali che sono una caratteristica tipica del dato geografico e di certe tipologie di dato geografico e che danno molto più valore allo stesso dato perché consente appunto di fare delle analisi particolari ma dove li andiamo a prendere questi geodati? dall'ultimo rapporto che pubblicheremo subito dopo la conferenza lo stiamo mettendo a punto la conferenza ci ha sottratto tempo al rapporto ma è addirittura d'arrivo quattro ministeri più l'Istat pubblicano dati geografici l'Istat in particolar modo ha dei dati molto significativi e molto utilizzati gli altri quattro ministeri pubblicano dei dati geografici ma non sono dei produttori di cartografia i grandi assenti sono proprio i produttori o i gestori delle cartografie in primo luogo il ministero dell'ambiente che per esempio ha il geoportale anzi mi dicono e ho verificato che ieri sera, chissà come mai il giorno prima della nostra conferenza sono stati pubblicati in servizi di interoperabilità delle ortofoto del ministro dell'agricoltura quindi della GEA come servizi di interoperabilità non ho visto licenze open di riuso di questi dati però è un grande passo avanti perché come vedete come secondo elemento ci sono appunto le ortofoto del ministro dell'agricoltura e non l'ho cancellato perché la notizia mi è stata data stamattina e sono andato a vedere subito sul sito del geoportale e comunque pubblicare non vuol dire rendere open come molti ancora credono pubblicare un dato in visualizzazione non è renderlo open cioè si rende open quando c'è una licenza e le limitazioni del geoportale sono note e sono descritte le limitazioni d'uso sono descritte all'interno del geoportale e poi abbiamo ancora l'Igm l'istituto geografico militare che ha grigliati la toponomastica il DTM i famosi grigliati per le conversioni fra i sistemi di coordinate che non sono open anzi sono a pagamento e ancora l'agenzia delle entrate con il Catasto e Catasto purtroppo due o tre anni fa hanno ripristinato il balzello della visura catastale purtroppo per noi e recentemente mi è stato comunicato da alcuni enti che è arrivata una lettera dall'agenzia delle entrate voi sapete che sono stati molti di voi lo sanno sono stati investiti decine di milioni di euro in progetti per pubblicare e rendere disponibili al cittadino i dati del Catasto uno degli esempi è il progetto Sigmater che è costato più di 24 milioni di euro e gli enti che hanno pubblicato questi dati hanno ricevuto una comunicazione dell'agenzia delle entrate che comunicava che non possono rendere pubblici al cittadino quei dati perché sono dei dati a pagamento io ho una copia di una lettera che è stata mandata a uno degli enti locali poi abbiamo 11 su 21 regioni e province autonome che hanno reso dei dati open non tutti nello stesso modo quindi secondo le tipologie di dati i passaggi all'open di altre regioni sarebbe immediato pensate alla regione Puglia per esempio che tra l'altro ha fatto una legge sull'open data che purtroppo ha un geoportale ricchissimo quindi già caratterizzato da servizi sia di interoperabilità che di download dei dati ma non ha una licenza dichiarata quindi la legge la 221 dice che se non è dichiarata una licenza d'uso si intende open il dataset pubblicato però è anche vero che noi non sappiamo dove si può nascondere una formula all'interno di un sito internet come lo era prima sul sito della regione Puglia nelle FAQ c'era adesso è stata tolta una nota che limitava l'uso dei dati l'uso intendo l'uso aperto il vero uso aperto quello che è descritto in una licenza d'uso come la Creative Common Buy o la IODL2 ecco questo è un elemento importante perché ci sono delle regioni che sono a un passetto basta un passetto per diventare open basta pubblicare la licenza associata a servizi di download ed interoperabilità che già sono pubblicati 11 province sul totale quindi un 10% pubblicano dati open qui però le province sapete che siamo in una situazione particolare quindi è difficile che prendano iniziative in questo momento mentre un elemento significativo sono 14 capoluoghi di provincia solo 14 capoluoghi di provincia pubblicano dati open la metà pubblica dati di base come le cartografie di base quindi come vedete un numero molto esiguo di città italiane e stiamo parlando ormai da anni di smart city secondo me smart city si può definire una città che prima di tutto rende i propri dati open e che poi sia anche trasparente che è molto vicino al concetto di open molto vicino non è la stessa cosa assolutamente apriamo una discussione che non finisce mai però sono due aspetti molto importanti ci sono anche delle aziende private che pubblicano dati open e questo è un fatto importante sta nascendo questa prospettiva che abbiamo una vera e propria prospettiva non cito le aziende una di queste lo presenterà in plenaria presenterà appunto l'apertura di dati appunto se si esauriscono i posti in sala c'è anche la galleria sopra ecco se potete usufruire ci sono anche 300 posti su in galleria scusate l'informazione di servizio e allora perché istruzioni per il riuso perché il riuso sicuramente è la cosa che in questo momento va per la maggiore perché gli enti hanno pubblicato dei dati senza sapere a chi servissero e adesso si chiedono ma chi li sta utilizzando e quindi sono nati processi conferenze seminari hackathon per sollecitare lo sviluppo di applicazioni sugli open data e così via e questa diciamo energia che c'è intorno agli open data che va un po' orientata per capire meglio quali sono le aspettative degli utenti sicuramente l'open data nasce come spinta l'economia italiana ma non è solo questo che dobbiamo valutare dobbiamo valutare anche altri tipi di benefici anche intangibili oddio e gli economisti riescono a monetizzare qualsiasi tipo di beneficio anche quelle intangibili ho visto delle elaborazioni su analisi costi benefici incredibili per noi ma riescono a rendere a monetizzare anche questo e quindi andiamo verso quello che io chiamo l'open data 2.0 analisi della domanda qualcuno si deve purporre che cosa serve il riuso e soprattutto il feedback e tutto questo porta questo è un pensiero che allargo a tutti voi ma diciamo all'open data consapevole quindi che ho declinato in quattro voci utilità quindi prima di pubblicare un dataset ci dovremmo chiedere a chi può essere utile quindi incrociare quelli che sono i nostri dataset che possiamo rendere pubblici e open con i potenziali utilizzatori seconda chiave l'efficacia modelli formati metadati standard utilizzati immaginate noi oggi parleremo di stradari io ho analizzato gli stradari di 13 città italiane non ce n'è uno uguale all'altro per cui se qualcuno deve sviluppare un'applicazione che utilizza lo stradario lo svilupperà per il comune di Milano e poi non gli andrà bene per il comune di Parma e non gli andrà bene per il comune di Roma e così via sono 13 stradari uno diverso dall'altro e quindi l'efficacia è data anche da questo da rendere disponibilità in interoperabilità di studiare le applicazioni più idonee la terza chiave di lettura è i benefici economici e intangibili quindi anche questa è un'analisi che va fatta che livello di beneficio porta a pubblicare un dataset rispetto a un altro e poi un'altra voce essenziale un'altra tag importante rischi e criticità rischi legali di privacy ne parlerà poi la dottoressa che è il primo relatore della plenaria e anche le criticità perché pubblicare un dataset vuol dire anche mantenerlo aggiornato è chiaro che se io pubblico un dataset sulle scuole e sui plessi scolastici ogni anno ci sarà qualche aggiornamento me lo immagino perché noi lo viviamo direttamente scuole che chiudono vengono accorpate plessi che vengono passati ad altre scuole e così via quindi bisogna assicurare una delle critici è sicuramente l'aggiornamento dei dati la ripubblicazione dei dati stessi che ovviamente con strumenti tipo linked data di interoperabilità questo problema non sussiste di meno nel senso che il dato se viene effettivamente aggiornato è reso disponibile direttamente a tutti attraverso i servizi di interoperabilità senza necessariamente downloadare e allora chiudo la mia relazione con la presentazione dell'agenda la mattina abbiamo questa sessione plenaria alla fine della plenaria consegneremo i riconoscimenti come abbiamo fatto l'anno scorso a tre entità non dico ancora cosa chi sono se sono enti aziende e così via che si sono dimostrate virtuose nella pubblicazione e nel riuso dei dati è stato molto impegnativo quest'anno rispetto all'anno scorso la selezione nel pomeriggio ci sono quattro eventi in parallelo e quindi in questa sala si terrà il corso pubblicare gli open data predispoli per il riuso costruito su tre moduli e realizzato in collaborazione col Forme ZPA è il primo modulo dedicato appunto ai concetti generali di open data e il secondo c'è una case history molto interessante che è il comune di Firenze e poi il terzo è dedicato alle tecnologie che sono a disposizione sul mercato sia open source che commerciali per la pubblicazione e il riuso dei dati poi abbiamo uno spazio sviluppatori abbiamo scelto la formula del workshop perché ci sono molti sviluppatori che non conoscono a fondo i dati geografici quindi fare un hackathon ci sembrava meno interessante che di un workshop in cui andiamo a parlare con tre workshop specifici di sviluppare applicazioni con dati geografici su smartphone e poi abbiamo il secondo workshop dedicato a una base dati che può essere utilizzata in mille modi come OpenStreetMap e il terzo dedicato a LinkedData con la connessione alla parte geografica poi abbiamo uno spazio applicativo molto operativo e tecnico che ci spiega come si fanno le cose è interessante perché ci sono soluzioni anche veloci per capire come si possono riutilizzare i dati e poi un tavolo di lavoro appunto questo sugli stradari dove per stradario intendo toponomastica numerazione cifrica e grafi stradali ci sono molti standard molte competenze istituzionali sui grafi stradali apriamo un tavolo di lavoro io ringrazio le istituzioni che hanno aderito a un tavolo di lavoro organizzato da un'associazione in genere non siamo chiamati noi a questi tavoli che le istituzioni organizzano e quindi una volta che lo organizziamo noi sono molto contento che hanno aderito praticamente tutte le istituzioni che abbiamo invitato sarà un tavolo interessante e speriamo che sia l'inizio di un percorso non voglio tediarvi ancora con le mie parole e passo la parola a Monica Palmirani Università di Bologna specializzata in aspetti legali legati all'informatica che ho invitato personalmente a relazionarci e spero che ci dirà non solo le modalità ma anche le criticità che possiamo avere nel ripubblicare dati open e ho